Posso cambiare in astenuto, Presidente. Aula. Ok. Aula. Aula, tutte e due le opposizioni. Ora c'è l'1.203. Contrario. 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 E poi c'è l'1.301 da votare ai sensi del 86,4. Aula. Quella è la commissione in bilancio, il secondo. Aula. Sulla ammessibilità di questo, se è possibile, considerare quello come un emendamento inerente i requisiti di bilancio, mi permetto di segnalare che è un intero sostitutivo e che va a modificare alcuni parametri che nulla hanno, o potrebbe andare a modificare alcuni parametri che nulla hanno a che vedere con le questioni di bilancio. Premetto che viene riportato all'inizio la procedura, le modalità con cui ARPA per aumentare il controllo, che sono cose che teoricamente erano scritte all'interno del testo originario. Il dubbio mi viene che nel rifare, comunque, e per dare una visione complessiva, questo possa costituire un precedente pericoloso in cui la commissione bilancio abbia la facoltà di intervenire sulla riscrittura di un intero paragrafo, invece che puntualmente andare a fare quelle operazioni di tagli e cuci che riguardavano soltanto le questioni di bilancio. Io su questo però chiedo alla Presidenza di valutare se quello, così come adesso viene proposto, come un interamente sostitutivo e che riguarda altre questioni, possa non essere invece più opportuno scriverlo in un'altra maniera. Va bene, intanto registro il rilievo. Nel frattempo la Presidenza approfondisce. 1.172 e 1.173 identici. Favorevole. Favorevole. 1.23. Favorevole. Favorevole. 1.204. Favorevole. Pagina 29. Aula. 1.83 e 1.86. Favorevole. Favorevole. 1.88 e 1.96. Favorevole. Favorevole. 1.95. Favorevole. Favorevole. 1.98. Favorevole. Favorevole. 1.100. Favorevole. Aula. 1.108 favorevole favorevole 1.124 favorevole favorevole